ciao a tutti oggi vorremmo spacchettare questa lol perché così iniziamo mamma mia che difficile ho cipollato e su questo troviamo un primo indizio vero? si troviamo un indizio che indizio sarà? aiuto mi si è attaccato e questo un videogioco e un cubo di ghiaccio play it's cold vediamo qua cosa c'è aspetta che c'è io vai tira tira ha cipollato francesco ora fai così e qua troveremo un altro è rara vai francesco andiamo una una rara si è bello vero vediamo cosa può fare dov'è? qua può può cambiare colore sputare fare la cosa misteriosa piangere o fare la pipì sto fermo vai a rincontrare a cipollato a cipollato mettiamo tutte le gatti di lato troveremo questo la sabbietta è bonus vediamo 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 la sabbietta che colore è vero? aspettate un attimo vado a prendere le foglie schiacci grazie intanto io ci provo va bene il colore sarà la sabbietta? boh oddio forse ho capito chi è forse ho capito chi è non so il nome ma forse ho capito c'è scritto surprise in eye possiamo usare le forbici fatevi aiutare sempre da un adulto ecco abbiamo trovato una paletta dove francesco inizia aspetta sarà bellissimo questo video oh mio dio ho capito chi è? si Anastasia aspetta 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 chi è? aspetta Anastasia vai spacchetta attenta che non mi tagli aspetta ce la fai? vai ho già capito chi è e la lol e la lol sarà lei eccola ho capito io ma è pelosa wow vero senti senti Francesco posso fare io? facciamo con la paletta mamma mia allora vado a prendere uno sfuzzicadenti ci vediamo dopo ciao ecco al solito ne ho presi eccomi vediamo che dovete prendere sì lo so intanto io tolgo la sabbietta ti aiuto aiuto ma veramente ce n'è tantissimo niente qua non ci riesco vabbè ora l'andremo a vestire io metto le cuffiette va bene? sì mamma che è difficile è sì molto difficile tu è l'altra uno due tre due 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 ecco le cuffiette le metto io aspetta metto io ecco ed i biberoni ora andremo a vedere cosa fa sì ritorniamo subito vediamo cosa farà uno saluto non lo cerca cosa potrebbe fare può sputtare può sputtare solo si che si chiama kitty chi 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 si sputa infatti e perdo il sacco di glitter prima ho preso una lol che opererna lì praticamente ora l'ho da Io metto giallo stickers, va bene? Sì. Sì. Allora, è sì. Ok, è cambiata di tutti i colori. Prima il pannolino era tutto giallo. E non ha come... Il pannolino prima era tutto giallo. Ora gli sono venuti i puntini. Gli è venuto anche il costume, che prima non ce l'aveva. I capelli erano bianchi. Gli fanno diventati fucsia. Qua sull'occhio gli è venuto un so cosa di un cuoricino, che ora si è tolto. E ora lo immergiamo sull'acqua. Ha cambiato subito colore. Allora, ho trovato... Sulla sua Lille, questa borsa a pop corn, praticamente. E degli occhiali. Cambia subito colore. Che da lì proverò a mettere. Ecco. Ma sarà una della sottolona. Chissà se la ritroverò. Mettiamo tutte le carte da parte. Mi è caduta anche la sabbia per terra. La sabbia è fucsia con i dite, oro dorati. Ora andrò ad accogliere la sabbia che è caduta. La sabbia è bella morbida, vero? Sì. Che si spezza così subito. Tu la prendi e già ti è caduta. E adesso andremo a vedere. Farò vedere che abbiamo trovato. E si chiama Kitty Kitty. Come vedete qua. Sputa. Ora metteremo via. Perché non posso lasciare in questo casino. È nel club... De Glitterati. E ciao ciao. Mettete tantissimi pollicioni. Ciao.